Con oggi sono 17 anni che lavoro nel gruppo toscano. Prima ero uno studente universitario e per puro caso ho fatto un colloquio presso l'agenzia sotto casa mia. Sono in Toscano dal settembre del 2019 e prima mi occupavo, ero responsabile, di una fondazione culturale. L'ho fatto per oltre 10 anni. Questo è il mio quinto anno di Toscano e prima di questa esperienza facevo il pasticciere. Sono entrato in Toscano circa sei anni fa ed è stata la prima esperienza lavorativa in quanto prima studiavo. Perché abbiamo voglia di espandere la nostra rete di franchising e quindi cerchiamo risorse per crescere insieme. Sto cercando nuove risorse risorse perché ho dei progetti di sviluppo per la mia attività perché intendo aprire per i prossimi anni dei nuovi punti affiliati nella mia città. Voglio cominciare a formare le persone che posso poi avviare a dei ruoli di responsabilità. Cerco nuove risorse perché insieme ai miei soci credo di avere un progetto ambizioso di crescita e sviluppo della rete affiliata nella città di Milano. Sono alla ricerca di nuove risorse perché il mio obiettivo è quello di creare un team che sia forte, leale e professionale capace di trasmettere i valori in cui credo che sono la trasparenza, la lealtà e l'ambizione con l'obiettivo di creare delle nuove società immobiliari. Per lavorare con noi devi essere determinato, costante e devi saper sognare in grande. Prima di tutto credere in se stesso o se stessa, avere un pensiero positivo e soprattutto agire in modo energico e efficace. Per lavorare con me è una risorsa di base, deve avere una buona educazione, il rispetto per il luogo di lavoro e un pizzico d'ambizione. Tutto il resto glielo diamo noi. Le qualità che ricerco in un candidato sono l'onestà, la curiosità e il coraggio. Quella forza segreta che ci consente, che ci aiuta a superare gli ostacoli e le difficoltà. Grazie Grazie Grazie